Nasce una sorta di gemellaggio fra Faenza e Marrakesh. Provotrici dell'incontro fra le due comunità saranno le volontari di OSS Donna che si reccheranno in Marocco per visitare due centri antiviolenza nei pressi di Marrakesh. Sarà un vero e proprio scambio, non solo culturale, ma anche di nozioni, tecniche di approccio, sistemi di lavoro. Le volontari di OSS Donna porteranno la loro esperienza di anni di lavoro al centro antiviolenza faentino. In campio vedranno le volontari marocchine operare in un contesto socioculturale e religioso molto diverso dal nostro, con lo scopo di migliorare l'approccio e le relazioni con le donne di origine straniera che si presentano al centro Manfredo per raccontare le violenze subite. Come nasce l'idea di questo progetto? Una delle nostre volontari è Cadigia di OSS Donna di Faenza, originaria di questa cittadina in Marocco dove ci sono questi centri antiviolenza e quindi è stata lei che ha fatto da tramite tra l'associazione Faentina e questa marocchina, quindi può parlare, può spiegare meglio lei? Buongiorno, sono Cadigia, vengo dal Marocco, faccio parte da OSS Donna come volontariato. Allora, questo progetto è in atto che abbiamo avuto un invito da questi due centri antiviolenza, uno dei Temellellet e uno del Calad Strana. Dopo è stato dato la nostra supervisione e l'ok di hanno fermato il cambio di esperienza, di progetti. Durante questo gemellaggio vorrete un confronto fra i vari progetti che seguite come associazioni e esattamente su quali progetti vi confronterete? I nostri progetti più rilevanti sono intanto puntare alla prevenzione, quindi tutto il progetto che andiamo a fare nelle scuole. Nelle scuole di Faenza già anche l'anno scorso abbiamo contattato circa 1200 ragazzi. I progetti li seguono la nostra psicologa e sono chiaramente rapportati all'età dei bambini, ma iniziamo dalle scuole materne fino alle scuole superiori. Questo per educare un pochino i ragazzi a rispetto, a conoscere la differenza di genere, insomma al rispetto fra maschi e femmine e anche per evitare questa violenza che vediamo esserci già nei rapporti delle prime generazioni, degli adolescenti. Altri nostri progetti che credo interessino anche alle associazioni di Marachè sono le nostre case rifugio, ne abbiamo cinque, tre di prima accoglienza, una proprio di urgenza quando qualche donna si rivolge a pronto soccorso e non può più tornare a casa perché è stata picchiata dal marito, eccetera. E un'altra casa offerta fra l'altro da una faentina che si chiama per un percorso per uscire una casa di autonomia in cui una donna può rimanere un anno, un anno e mezzo fino a che ritrova la sua autonomia lavorativa, insomma la capacità di gestirsi da sola insieme ai propri figli e poi ne uscirà e si troverà una casa normale. Oltre a questi abbiamo, penso che anche queste cose interessino, noi abbiamo uno sportello di avviamento al lavoro, aiutiamo queste donne, insomma abbiamo un contatto con le aziende del territorio che ci aiutano a trovare il lavoro con queste donne, uno sportello legale formato da un pool di avvocate che danno i primi consigli a una donna che subisca violenze, che spesso ha paura anche di denunciare per paura di perdere i figli, magari non hanno il lavoro, insomma per dare loro i primi suggerimenti, le prime sicurezze, cioè che si può anche uscirne senza dover rischiare di perdere i figli e poi anche un pool di psicologhe perché in certi percorsi le donne hanno anche bisogno di un supporto psicologico per aumentare la loro autostima e per uscire dal ciclo della violenza. Cosa invece può restituire a SOS Donna appunto questa settimana di scambio culturale con l'associazione del marocchino e quindi con una realtà culturale diversa? Tanto è un po' uno spazio a 360 gradi proprio per vedere un pochino quelli che sono i progressi, in particolare in Marocco dove è stato cambiato il diritto di famiglia, quindi rispetto ad altri paesi arabi sicuramente è molto più avanzato da questo punto di vista, però ovvio che i problemi rimangono e sono tanti perché poi il problema è spesso come anche qua in Italia di quella che è la cultura proprio personale delle persone e quindi l'interazione che c'è tra uomini e donne, quindi è importante intervenire lì. E rispetto a questo speriamo anche di confrontarci e di vedere quali sono i punti in comune e le eventuali differenze che ci sono tra i nostri due mondi. Quindi sicuramente torneremo arricchite da queste esperienze, questo non abbiamo dubbi. E poi insomma ci fa anche molto piacere il fatto che ci sia questo desiderio di scambiare le esperienze su un terreno comune che è quello della violenza delle donne che purtroppo non conosce, cioè non nasce da differenze di classe economiche, culturali, cioè proprio è un fenomeno generalizzato a livello mondiale e quindi che colpisse le donne di qualunque nazionalità e se siano, quindi è proprio una battaglia comune che dobbiamo fare per cambiare questo stato di cose, per guadagnare diritti e guadagnare rispetto soprattutto.